Sosta di fine anno, settimana per lavorare in tranquillità in vista della ripresa del 6 gennaio Momento utile per il consueto richiamo atletico, la benzina necessaria per tutto il girone di ritorno Oltre che per migliorare le situazioni di gioco, in particolare dopo gli ultimi arrivi del calcio mercato Per il campo basso, ripresa oggi dopo 4 giorni di sosta, poi preparazione, eccezione fatta per il 31 dicembre Momento positivo in casa Rosso Blu, 10 punti nelle ultime 4 gare sono serviti a risalire la classifica Ma soprattutto a far salire il morale della squadra e della piazza Peccato aver fallito l'occasione ghiotta contro la San Maurese, anche con il rammarico di aver fallito un calcio di rigore Poco male comunque, nel ritorno ci aspettiamo un campo basso informato, visto di recente per blindare la salvezza E migliorare il più possibile il piazzamento finale La rosa è completa anche con l'arrivo del centrocampista Leto, ultimo innesto Mister Bagatti può adesso sfogliare la Margherita per un ritorno di assoluto livello Si riprenderà con un'altra gara a Selvapiana contro la San Giustese, terza in graduatoria Un match sicuramente interessante contro una delle squadre migliori per calcio giocato di tutto il girone Un vero peccato non aver colto i tre punti per l'Isernia nel match pre-natalizio contro il Matelica Un'impresa sfiorata sul campo e sicuramente riuscita per le condizioni della rosa nella settimana di avvicinamento all'incontro Uomini contati per Silva, felicissimo di aver assistito ad un match stoico dei suoi anche senza aver colto i tre punti Sono previsti degli arrivi in questi giorni, almeno prima della ripresa, match fondamentale a Lancellotta contro il Forlì Il presidente Biscotti nel corso di Domenica Sport ha di fatto annunciato la chiusura della trattativa per l'attaccante Schena E la volontà di chiudere altre due operazioni, due centrocampisti senior per mister Silva Chiaro che ora la squadra necessita degli innesti fondamentali Servono uomini di esperienza in una rosa ridotta all'osso Certo lo spirito e l'abnegazione non sono mai mancati I biancocelesti hanno spesso buttato il cuore oltre l'ostacolo raccogliendo il massimo nel girone d'andata Penultimo posto al momento per l'Isernia a quota 17 insieme all'Olimpia agnonese Proprio i Granata con la grande vittoria ottenuta a Pineto Sembravano sul procinto di lasciare una volta per tutte la zona calda Invece le battute d'arresto entrambe di misura con Montegiorgio e Vastese hanno complicato la classifica Due sconfitte simili dove gli uomini di Foglia Manzillo hanno condotto le operazioni in campo Per poi compromettere il risultato con errori grossolani Il rigore regalato in apertura a Vasto e l'espulsione di Peic per protesta nel secondo tempo Sono gli episodi singoli da evitare La squadra è comunque viva, serve maggiore cattivere e convinzione Dalla prima a Giulianova i punti inizieranno a valere il doppio come nel corso di tutto il ritorno A proposito dei Granata, ai nostri microfoni il centrocampista Ricciardi Purtroppo noi in questo giorno d'andata abbiamo fatto parecchie di queste prestazioni buone Ma abbiamo raccolto pochissimo Perché non dico che è preoccupante ma ci deve far alzare le antenne Perché dominare una partita oppure avere sempre il pallino del gioco E rischiare più di un'occasione In più partendo in questo modo non fa assolutamente piacere Cercavi sempre la profondità, soprattutto cercavi le fasce Ancora era il giocatore più cercato Soprattutto perché poteva sfondare a sinistra e cercare la zona centrale Sì, l'avevamo preparata così Tenendo gli esterni larghi Che sono appunto bravi anche nell'uno contro uno A volte ci siamo riusciti, a volte no Ma comunque l'impegno, la voglia c'è stata Perché anche per l'espulsione si è fatto prendere la foga Purtroppo è affischiato un fallo che non c'era Ma dobbiamo essere più lucidi e freddi Fino a quel momento eravate consci che la partita la potevate riprendere Poi il doppio giallo a pece vi ha tagliato le gambe Sì, col segno del poi sì Però non è assolutamente l'espulsione sua che non ci ha fatto recuperare la partita Perché alla fine la poteva recuperare anche in dieci Oppure no, con l'uomo in più Non saranno feste brillanti dopo questa sconfitta Però lavorerete a testa bassa per la prima gara di ritorno a Giulia Nova Certo, quello che ci ha contraddistinto in questi mesi è stato assolutamente quello Il lavoro sul campo durante la settimana e poi portandolo sul campo Ci dobbiamo tirare su, adesso dobbiamo trascorrere le feste Certo non saranno proprio feste perché comunque adesso diventa più dura Dobbiamo fare un girone di ritorno da playoff per la salvezza diretta Non dico da playoff ma quasi